Associazione mafiosa, porto e detenzione illegale di armi, Kalashnikov, mitragliette, uzi e bombe a mano, usure e distorsione, reati aggravati dalle finalità mafiose. Queste le accuse a carico di 37 persone arrestate dai carabinieri dei Ross a Milano e Provincia a seguito dell'indagine crimine che già nell'aprile 2011 portò all'arresto di 11 affiliati a Lendrine di Seregno e Giussano. In manette il boss Ulisse Panetta e appartenenti alle famiglie Cristello e Corigliano. Traffico di droga, estorsioni e usura alle attività. A una concessionaria di Giussano vennero chiesti 500 mila euro e l'opera di convincimento passò da telefonate minatorie a colpi di pistola contro le vetrine e poi a tentati incendiari. Con lo stesso sistema vennero chiesti 80 mila euro di un imprenditore del settore mobiliare proprietario di un bar sempre a Giussano. Il titolare di una sala giochi fu convinto a rinunciare ad un credito di 70 mila euro. Un altro imprenditore Dile venne costretto a riconoscere interessi esorbitanti alle somme prestate dalla cosca. Fondamentali le rivelazioni di un partito, Michel Panaia, che avrebbe svelato le attività delle cosche in Lombardia dal 2010 in poi, cioè dopo un altro maxi blitz della DDA di Milano che aveva portato all'arresto di 170 persone a 110 condanne con rito abbreviato. Nel bilancio dell'operazione un dato negativo. Gli imprenditori locali, soprattutto di origine calabrese, non hanno mai sporto denunce alle forze dell'ordine. Una sorta di omertà al contrario, visto che riguarda le vittime dei reati e non chi li ha commessi.